Eccoci qua ragazzi, allora lo so sono un po' di giorni che non pubblico, me ne scuso, però vedete i coaching stanno andando così bene, ma così bene, che c'è talmente tanta gente che non ho proprio più il tempo né per giocare, per fare delle clip, né per magari anche solamente pensare al video da caricare eccetera eccetera eccetera. Quindi adesso praticamente lo sto facendo alle quasi l'una e mezza di notte e quindi sto cercando di creare il video adesso e sarà un video semplice che poi ogni tanto io li carico, no? Questi video qua dove commento delle mie clip. In questi giorni durante i coaching ho preso dei ragazzi, siamo andati a giocare su Warzone direttamente, sono nella fase dell'allenamento finale diciamo e quindi praticamente sono uscite le clip carine e ho detto ma dai, ma tanto perché non portarle sul canale e commentarle un attimo? Non ci metterò tanto, le farò durare poco e praticamente prima le faccio andare e poi dopo le commentiamo assieme, ok? Quindi niente, iniziamo subito. Sono clip normali, nel senso sono belle, però è proprio uno di quei video come facevo all'inizio del canale dove parlavo appunto dei coaching ad esempio, del decision making, ecco. Fate conto che qua è un commentare delle clip per evidenziare proprio il decision making preso in ogni situazione, ok? Iniziamo con la prima, andiamo. Eccoci qua ragazzi, allora clip, cosa sta succedendo? Semplicissimo, siamo morti tutti e due allo start perché io avevo trovato un M16 bianco, lui neanche un'arma se non sbaglio, solo pompa e il team che era atterrato aveva trovato già a fare mitraglione e ci hanno distrutto. Siamo responati e praticamente, anzi sono responati l'immortal gulag e praticamente adesso vi faccio vedere che cosa è andato a combinare il vostro fiorello. Allora, l'unica arma che ho trovato, pistola verde, quindi praticamente non so che accessorio abbia la pistola, solamente penso il caricatore e una canna e basta. Comunque, allora niente, mi sto trasferendo di casa in casa a cercare qualcosa, va bene, chiudo un po' le porte come faccio di solito. Allora, vedo dalla finestra che arrivano dei tizi, che c'erano con me. Penso abbiano un luoghi attivo da come arrivano belli convinti, no? Io mi sto guardando un po' attorno, a un certo punto meno male che mi riaffaccio giù da basso e me lo vedo lì, ok? Ok, guardate la situazione, guardate come me la sono giocata, per vedere come erano posizionati e tutto quanto. Ho cercato un attimino di vedere, aspettare il push e ogni situazione. Guardate, ho attivo silenzio di tomba, guardate bene. A terra 1, io ho pochissima vita, ero già senza piastre raga, quindi... Give up, controllo, hito l'altro, ma vedo, ho sentito che si era arrestato l'altro, auto-res probabilmente. Allora, cosa faccio? Di solito, come ho già detto, negli 1v3 e 1v2, cerco di splittare il team. Sento dei passi qua. Questa è sbagliata, cioè è staccato di tanto rispetto all'altro. L'altro è rimasto su, non mi ha fregato niente, l'ha lasciato andare per i cavoli suoi. E niente, lo faccio, lo finisco, controllo bene, sento dei passi sopra, allora dico, dai, posso prendere l'arma. In quel mentre, ha sentito che io ho fatto un movimento lì fuori, ha sentito che ho raccolto le armi, allora dico, bene, prendo io la high ground adesso, ok? E scappo, scappo, qua mi è partito uno slide cancel, è sbagliatissimo, e bam, saltino, andato. Questo è per farvi capire che anche con una pistolina, una semplice pistolina, si può portare a casa una vittoria, cioè un full team, un team da due, usando la testa. Non avevo neanche piastre, bisogna usare, bisogna sapere sparare, tutto quanto, però non bisogna dare nel panico. Io non sono stato fermo, un secondo, un secondo, non sono stato mai fermo. Quindi, come ho già ripetuto in passato, il trucchetto più importante è proprio quello di muoversi sempre, ok? Passiamo alla prossima clip. Eccoci qua, guys, siamo qua con l'altra clip. Qua cosa sta succedendo? Siamo vicino a Train Station, giù di lì, dove c'è Blue. Praticamente la save si sta chiudendo. Arriva un tizio là dietro, noi stavamo controllando perché ne avevo atterrato uno. L'ho agganciato immediatamente, per dirgli no, te non mi spari. Ma arriva una stun. Ma guardate in così poco tempo, la mia lucidità, non ero per niente nel panico. Lucido. Guardate anche qua quante azioni ho pensato subito. Evito i colpi, quindi slide cancel, e stanno il nemico. Poi l'altro dietro ha ristannato di nuovo me. E guardate qua, con estrema tranquillità. Ricarico una, ricarico l'altra, buco il cecchino l'altro, mi metto in un head glitch e mi faccio anche l'altro. Ripeto, vedete la completa tranquillità? Non ho avuto fretta nel fare le cose, non ho fatto errori. Non ho, ho gestito al massimo le poche barriere protettive che avevo dall'auto, al cassonetto, adesso all'head glitch con la scatola di legno. Quindi, cioè, è stata un'azione controllata. Ok? Quindi, ricordatevelo, cercate sempre di splittare i nemici. Di fatti loro mi hanno pushato uno alla volta e hanno sbagliato. Non sono usciti organizzati. Bastava che uscissero tutti e due semi e io ero morto. Io ero morto. Invece, hanno sbagliato. Io ho avuto, mi sono ricordato subito del cecchino. Di fatti ho pensato subito a uccidere, a terrare subito quello là. E così è stato. Quindi, anche questa è una clip che volevo farvi vedere appunto per farvi capire il discorso solito. che io dico, non state mai fermi e usate sempre la testa. Non ragionate mai come il nemico si aspetta che voi ragioniate. Quindi andate sempre dove, diciamo, il nemico non se lo aspetta. Passiamo alla prossima clip. Questo è un endgame molto bello. Eccoci. Allora, situazione molto, ma molto critica. C'è stata anche un po' di fortuna. Un po' di fortuna. Allora, praticamente, safe, la vedete anche voi, si sta accedendo sopra. Anzi, no, proprio sopra. Nel tunnel alato di train. Guardate attentamente i miei movimenti. Guardate attentamente come mi muovo. Osservate attentamente, anche durante i fight. Ok? Osservate attentamente, va bene? Guardate tutto. Guardate. Ok. Uno. Confermato. Tutto a posto. Non mi occupo di restare i miei alleati. Lo dico sempre. Non restate immediatamente gli alleati. Pensate anche ad altro. Ok? Non solo agli alleati da restare. Non sono la priorità. Lo so che mi dispiace, ma l'alleato da restare non è la priorità. La priorità è quella di badare a quelli che ti stanno pushando. Ok? Quindi cercare di counterarli. Dovete fidarvi di voi stessi. Sapere che riuscite, volendo, a distruggerli. Ok? Ora, guardate qua la scena. Guardate qua che cosa ho fatto. Perché ho tirato quella smoke, ad esempio, trovata per terra? Per coprire il cross dei miei alleati. Perché io ce l'ho fatta. Però è bene non correre rischi, no? Quindi glielo ho tirato. Era inutile non farsi spottare. Tanto lo sapevano che eravano qua sotto. Sul tetto c'erano solo loro. E osservate attentamente i nostri movimenti. Osservate attentamente come ci gestiamo questa situazione. È veramente critica perché da sopra ci possono vedere tranquillamente. Di nuovo il cross qua sotto. Di nuovo. Ok? Con calma. Di nuovo. Osserviamo tutto. Perché ho guardato lì? Perché da lì da sopra si possono buttare giù e entrare dentro o da dietro? C'è un terrazzino orrendo. Bruttissimo. Do ogni tanto una pingata e lascio avanzare loro. Io tengo comunque. Non andiamo tutti appiccicati. Vedete? Ci dividiamo un pochino. Infatti. Adesso quelli che erano sopra ora non ci possono più stare. Comunque il cerchio non è più nella zona che a noi interessa. E guardate che cosa combino qua. Qua io dico che mi è stato un po' di fortuna. Perché quello che era fuori safe è stato ucciso da quelli sopra mentre mi sparava. Guardate attentamente. Guardate eh. Ok. L'hanno ucciso. Va bene. Allora. Uno dei miei va a terra per un bombardamento. L'altro dietro se li trova davanti tutti e viene distrutto. Io mi ritrovo in una situazione di 1v3. Guardate cosa faccio. Mi giro. Perché ho sentito i passi eh. Nessù cheat. Poi guardate qua la rapidità delle azioni. E specifico anche una cosa. Voi vedete che io come letale uso il coltellino. Perché uso il coltellino? Il coltellino. Allora innanzitutto il ping. È perché allora. Tipo. Un minuto e mezzo prima di questa clip. Ho usato tutte le stun che avevo. E ho trovato giusto il ping per avere qualcosa. Per rendermi utile. E quindi ho preso il ping. Però io di base gioco stun. Però mi raccomando la stordente. No la flashbang. La stordente. E il coltellino. Perché il coltellino? Io penso che sia fondamentale. E parlo dei terzetti e quartetti. In due singoli non uso coltellino. Penso sia fondamentale il fatto di confermare immediatamente una kill. Senza sprecare colpi. Difatti io hitto un nemico. Lo atterro. E lo finisco immediatamente. Ma guardate la velocità. Uno vi dice. Vabbè e tiri la granata. Eh no. Eh no. Perché la granata la devi stickare. Deve aspettare che esploda. E tutto quanto. E molto spesso se non lo hitti. Cioè se non gliel'attacchi addosso. Non esplode nemmeno. Cioè gli lasci tipo un decimo di vita. Però non muore subito. Quindi invece qua è già diverso. E vedete subito la velocità con cui mi faccio questa kill. Sfruttando di nuovo lo slide cancel. Allora io come avete visto io assolutamente. Con tutto il rispetto me ne sono assolutamente fregato. Di stare a restare e non restare. Guardate. Sento uno che si flya. Bam. Confermato. Poi ho sentito altri passi dietro. Invece sarà flyato sopra. Io non pensavo se fosse flyato sotto. Guardate l'errore che ha fatto lui. Ha fatto un errore che è banalissimo. Quando sei nel ground non devi stare a sporti giù. Ok? A guardare giù da basso. Non devi mai farlo. No? Ma devi o buttarti giù immediatamente. Ok? Oppure sfruttare una stanza e ce l'hai in qualche modo. Va bene? Questo qua invece guardate la... Non si è curato di niente. Sapeva che ero lì. Guardate come si è affacciato. Come l'ho distrutto. Cioè proprio nel modo peggiore. Ma proprio nel peggiore dei modi. Ma assolutamente proprio... Non ha fatto assolutamente bene. È stato un movimento sbagliatissimo. Quindi... Questa era la penultima clip. Ora vi voglio far vedere una clip velocissima. Per farvi vedere uno dei spottini che io ho spiegato. E vi faccio vedere come è stato utile a me in questo caso. Andiamo. Eccoci qua. Allora, stavo giocando duo con un mio socio. Ecco qua i nemici nella casa. Guardate cosa faccio. Silenzio di tomba. Parto. Slide, slide. Finta. Riguardiamolo tutti assieme. Entro dalla finestra. Sì, ho perdito uno. Uno. Slide finta, slide finta. E di nuovo l'altro. Questi sono... Quando vi dico di rendervi imprevedibili. Adesso obiettivamente no. Cioè, se voi fosse stati al posto loro. Cioè, ma avreste veramente pensato che qualcuno vi poteva entrare da quella finestra? Con uno sotto che vi spara? No. Quindi, proprio per velocizzare le cose, cercate sempre di trovare un modo diverso per pushare un edificio. Non per forza dalla scala principale. Magari dovete fare dieci metri in più. Fatevi. Perché magari vi conviene. Ok? Bene, raga. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate di queste clip. Noi ci becchiamo alla prossima volta. Magari con altre clip ancora più belle. Alla prossima. Ciao belli. Allora, fatemi sapere.